La settimana del Black Friday potrebbe essere un'occasione, noi diamo questa occasione ai nostri clienti per poter fare anche, visto che siamo vicini alle feste natalizie, anche qualche regalo, diciamo, forse in più quest'anno che comunque è stato un anno un po' difficile, un po' per tutti. Noi nel nostro Black Friday stiamo proponendo capi spalla, felpe, pantaloni tute, uomo-donna e siamo contenti che la gente comunque viene, frequenta il negozio e rimane contenta di quello che trova. Riguardo appunto alla gente che frequenta il negozio, la mia domanda sorge spontanea, come si comporta anche la gente in questo che hai definito anche tu, anno particolare e anche come è stato anche rietornare a parlare, chiacchierare anche con i clienti? Ma diciamo che sotto questo aspetto i nostri clienti hanno un comportamento adeguato alle regole quindi noi comunque le facciamo rispettare come giusto che sia. E' certo che il rapporto con il cliente è un po' cambiato, nel senso sempre, diciamo, noi abbiamo questo rapporto sempre d'amicizia, diciamo, con il cliente, però è chiaro che prima era un po' più, si dimostrava un po' di più. Adesso comunque abbiamo questa necessità di mantenere la distanza e quindi noi siamo comunque contenti dei nostri clienti, del nostro lavoro, speriamo sempre che le cose, diciamo, migliorino nel tempo e che ritorni tutto come prima. Un'ultimissima cosa, quando sono entrato ho visto di fianco alla cassettina con l'hashtag Io Supporto, questa bella iniziativa iniziata la settimana scorsa qua tra i commercianti di Vallefoglia e quindi immagino che anche voi aderite. Sì, sì, infatti anche noi come Freestyle aderiamo a questa iniziativa a Istag Io Supporto proprio per, appunto, supportare un po' tutte le, i commercianti, diciamo, della zona Vallefoglia per poterci dare una mano, per poter tornare a tempi migliori e in attesa che tutto questo sia a posto. Infatti abbiamo, diciamo, è stato chi ha organizzato questo, ha pensato a dei buoni spesa da poter fare in qualsiasi negozio anche per altre attività oppure il buono per caffè, pizza, eccetera, eccetera da consumare poi più avanti, insomma e quindi ci saranno delle scadenze, c'è una scadenza per il buono, eccetera e comunque mi sembra una bella iniziativa spero che i clienti aderiscono a questa cosa già ho sentito dire da altri negozi che hanno già avuto la possibilità di dare questi buoni quindi siamo contenti speriamo che le cose vadano bene in bocca al lupo tutti Abbiamo aderito al Black Friday anche perché purtroppo in questa situazione le vendite sono un po' calate diciamo un po', ma così non è e allora abbiamo aderito al Black Friday l'abbiamo fatto per tutta la settimana dal 21 a domenica che saremo aperti il pomeriggio e proviamo domenica pomeriggio a fare tutto a metà prezzo vediamo se funziona qualcosa sperando insomma di far entrare il cliente per fare qualche regalo di Natale per vediamo un po' già qualcuno ha già approfittato per fare qualche regalino qualche insomma però niente di importante insomma cioè sono tre settimane che il lavoro è calato proprio cioè proprio non dico a terra ma insomma poi insomma noi siamo in un paesino dove la gente gira dove insomma diciamo che ancora un pochino si muove ma penso che nelle grandi città sia molto peggio rispetto a noi Un'ultimissima cosa quello che riguarda anche un po' il periodo appunto come si comporta anche la gente che viene frequenta il negozio soprattutto vengono anche appunto fatte misure di sicurezza ingressi quindi contingentati non più tot persone alla volta Esatto sì la gente comunque rispetta quello che sono le norme aspetta fuori ma devo dire la verità in questo momento non è che ce ne sia bisogno esageratamente insomma non è che la gente si accalca fuori o aspetta cioè adesso noi qui abbiamo cioè possiamo far entrare due persone alla volta cioè nel senso che siamo già due noi più due persone e aspetta fuori oppure magari fuori è freddo le faccio aspettare all'ingresso però insomma devo dire che rispettano sì sì rispettano le norme rispettano ma non hanno non hanno neanche molta paura di poter entrare di poter però il rischio c'è insomma bisogna stare molto attenti tenere la mascherina stare a distanza tutte le norme che vanno rispettate rispettano